Buonasera a tutti abbiamo il piacere di avere ospiti stasera tre giornalisti a parlare di giornalismo quindi direi più sul pezzo di così non si può abbiamo con noi Luca Sofri direttore del Post Fabio Rubini redattore di Libero e Marianna Aprile capo servizio di oggi conduttrice radiofonica, televisiva insomma come dicevo prima molte vite l'occasione è la presentazione di Cose spiegate bene il nuovo numero della rivista cartacea che il Post dedica a temi particolari con approfondimenti della redazione con pezzi di autori speciali tra l'altro in questo numero c'è un pezzo bellissimo di Michela Murgia sul linguaggio e questo numero è dedicato al giornalismo si intitola Voltiamo decisamente pagina perché il giornalismo negli anni in questi ultimi decenni è cambiato forse come mai nella sua esistenza e la ragione intuibile il web e poi i social abbiamo qui tre rappresentanti di tre modi diversi di fare giornalismo online il caro vecchio giornale cartaceo televisione, radio, riviste e quindi possiamo avere con loro uno sguardo su quello che è successo e lo chiedo per prima a Luca Soffri che cosa è successo ai giornali all'informazione grazie mille è successo un po' di tutto grazie mille intanto al circolo dei lettori e anche a voi alle persone che gentilmente si sono appunto prestate ad accompagnarci in questa presentazione di oggi è successo un po' di tutto e che cosa è successo diciamo è anche il titolo di uno degli articoli introduttivi di questo numero di cose spiegate bene mi permetto scusami poi ti rispondo meglio soltanto di spiegare che è venuto da due percorsi e due progetti del post che si sono in questo caso sovrapposti uno è quello della rivista cose spiegate bene di cui abbiamo già parlato qui a Novara appunto approfittando già dell'ospitalità del circolo dei lettori in un numero precedente che è una rivista libro del post una rivista fatta a forma di libro come diciamo sempre oppure un libro che esce con una frequenza da rivista in questo momento più o meno trimestrale che adesso è al settimo numero e dopo diciamo una fase sperimentale che ci ha dato molte soddisfazioni stiamo continuando a fare appunto una rivista tematica in cui cerchiamo di condensare senza delle ambizioni di completezza che avrebbero bisogno probabilmente di dieci volte il numero di pagine su questi temi però appunto di condensare molte cose che si possono dire raccontare e spiegare su determinati temi temi che sono molto diversi fra loro sono stati la giustizia le droghe le questioni di genere l'editoria il teatro che forse condividono tra loro il fatto che sono dei temi molto presenti molto larghi come avete sentito non dei temi particolarmente esotici o originali o laterali però al tempo stesso su cui abbiamo l'impressione che benché siano molto presenti nelle nostre vite nelle nostre discussioni ci sono un sacco di cose che non conosciamo esattamente di fondamentali alle spalle e di cose che si possono spiegare di questi mondi e di ambiti e i giornali d'informazione sono una di questi l'altro percorso è che nel frattempo anche per quello che è il post che diciamo ormai c'è da quasi 14 anni ma che è nato esattamente dentro il cambiamento digitale di questi anni e grazie al cambiamento digitale di questi anni le trasformazioni dell'informazione e dei giornali sono una delle cose che ci ha incuriosito e interessato di più e per cui a sua volta il post per noi è stato una specie di terreno e laboratorio come scrivo nell'introduzione per noi fare il post non è soltanto naturalmente fare un nostro progetto ma è anche un po' come quando quelle zoologhe intraprendenti vanno a vivere tra i gorilla per un po' e imparano appunto delle cose stando lì dentro noi abbiamo imparato moltissime cose sui giornali su quello che stava succedendo proprio usando il post come una specie di laboratorio e osservazione e di questo ci siamo occupati molto facciamo da tempo una newsletter settimanale che si chiama Charlie che racconta e cerca di spiegare cosa sta succedendo al mondo dell'informazione facciamo spesso degli incontri pubblici sulla lettura e comprensione dei giornali e delle loro dinamiche e tutte queste cose che siamo andati via via accumulando raccontando e capendo l'abbiamo approfondite in questo numero di cose spiegate bene per rispondere brevemente su che cosa è successo perché è successo un po' di tutto ma la risposta più breve e sintetica è una risposta terribilmente prosaica e concreta ed è che sono finiti i soldi però guardate che qualunque cosa quasi qualunque cosa che succeda oggi ai giornali e qualunque riflessione sulle scelte fatte dai giornali dico giornali perché non c'è da noi una parola come media a meno che non parliamo di mezzi di informazione che è una formula un po' ingessata ma insomma diciamo tutti i progetti di informazione dentro qualunque formato vecchio o nuovo qualunque cosa che noi vediamo succedere qualunque cosa che giudichiamo qualunque scelta è più o meno intimamente legata a dei fattori di risorse economiche e scelte sia per fare quella cosa sia per necessità progetti diversi assolutamente comprensibili non dobbiamo essere diciamo particolarmente critici o moralisti su questi giornali hanno bisogno diciamo di pagare i nostri stipendi per esempio e di tutta un'altra serie di costi però questa cosa spesso i lettori se la dimenticano i lettori diciamo internet ha creato con grande soddisfazione di tutti noi questa abitudine alla gratuità dei contenuti io diciamo che sono spesso riconosciuto come abbastanza critico nei confronti di gran parte dell'informazione sull'attualità italiana però mi metto assolutamente in difesa o meglio diciamo voglio che chiunque è molto critico nei confronti dell'informazione italiana o nei confronti di alcune scelte dei giornali mi venga però a dire che quei giornali li sta pagando perché se no una cosa che io dico spesso avercela diciamo è protestare poi giudicare criticare discutere si può fare qualunque cosa ma indignarsi e arrabbiarsi nei confronti di un giornale su cui non avete delle sue scelte su cui non avete speso un soldo è come entrare in un ristorante e arrabbiarsi col pizzaiolo perché fa una pizza all'ananas e urlargli contro e andarsene no? ci si arrabbia eventualmente rispetto a quello che hai pagato e di cui non sei soddisfatto poi naturalmente la cosa è più complessa i giornali fanno un servizio pubblico però è un servizio pubblico che si deve sostenere economicamente e questo è un tema appunto anche molto interessante la relazione fra il ruolo di servizio pubblico dell'informazione dei giornali e però la necessità che quella cosa abbia un modello di business che da internet in poi non ha più fondamentalmente appunto perché si sono persi due modelli di business principali si sono persi sono molto attenuati diciamo i due modelli di business principali dei giornali che sono uno la pubblicità e il fatto che le persone paghino per leggerli da questa cosa qua appunto ci sono state tutte le ricadute di quello che è successo nel bene e nel male ma anche nel bene ai giornali in questi diciamo ultimi tre decenni Maria a te volevo chiedere l'attualità della rivista perché è stata forse il genere che ha pagato di più lo scotto dell'arrivo del web e del cambiamento come stanno le riviste? Intanto buonasera a tutti e grazie al circolo per avermi coinvolta in una conversazione su qualcosa che mi piace quindi non succede spessissimo e quindi sono sono contenta e rispondo subito facendo un appendice a quanto diceva iniziando però con un appendice a quanto diceva Luca soffri poc'anzi perché leggendo cose alla fine ti viene da pensare che se vuoi capire come sta un paese guardi i suoi giornali ma non la libertà tutte quelle cose le diamo per dette per difese ok io parlo proprio di quello che caratterizza in questo momento il mondo dell'informazione i mali che caratterizzano il mondo dell'informazione in questo momento sono esattamente gli stessi del paese un rapporto difficile con il ricambio generazionale e insomma questo paese con i giovani non ha un rapporto molto diciamo molto furbo molto lungimirante un ancoraggio a schemi vecchi desueti che non si sposano più col mercato con i gusti della gente ma vengono difesi a spada tratta un rapporto diciamo molto interlocutorio per usare un effemismo con le regole nel caso dei giornali la deontologia la separazione uno dei cavalli di battaglia del direttore Sofri è la separazione tra pubblicità contenuti pubblicitari e contenuti giornalistici chi segue il post riceve Charlie e insomma segue l'opera di informazione che il post fa su questi meccanismi dell'informazione sa di che cosa parlo ma insomma il come stanno i giornali ci dice come sta il paese e a questo proposito se prendete cose prendetelo a pagina io sono cieca 200 no aspetta che scusate tutta la vecchiaia 311 ho dovuto metterlo qui però 311 c'è una cartina che raffigura la distribuzione della stampa locale e la stampa locale è la cosa che ci racconta casa nostra cioè quello che c'è in giardino nel cortile quindi è la cosa che anche quando va tutto male anche in televisione i GR i TG regionali sono le cose che uno si guarda perché riguardano più direttamente noi ora non so se lo vedete nelle ultime file è tutta al nord quei puntini blu sulla cartina sono i giornali diciamo i media regionali e locali che disegnano un paese diviso sostanzialmente con una concentrazione molto alta al nord e zero al sud che è un altro dei mali di questo paese quindi come stanno stanno male come sta male il paese che dovrebbero star bene proprio i giornali che dipendono dai soldi della gente e la gente ce n'ha sempre di meno da come va il nostro sistema produttivo perché è da lì che arrivano i soldi della pubblicità e diciamo che anche lì i numeri non sono proprio esaltanti e banalmente mi viene da dire dal tasso di fiducia nel futuro cioè se io leggo il giornale e mi voglio informare è perché ci credo che domani perché mi interessa sapere quello che succede domani non successo ieri siccome questo tasso di fiducia è sempre meno diciamo meno coltivato a più livelli cioè comprare il giornale è veramente diventato un atto di fede oltre che un impegno economico sempre più gravoso sulle tasche dei lettori e qui vengo finalmente dirai alla risposta alla tua domanda l'editoria periodica sta male come sta male quella quotidiana come stanno cioè il numero dei lettori è franato rovinosamente banalmente perché noi costiamo anche tanto cioè i giornali settimanali costano tanto noi oggi abbiamo ancora diciamo un prezzo che lo so che è come chiedere all'oste come il vino però un prezzo giustificato dall'oggetto che poi uno si trova in mano perché ha un numero di pagine come dire congruo per quel prezzo ha una qualità e una quantità di contenuti e una varietà di contenuti che a mio avviso a nostro avviso giustifica l'esborso di 2 euro a settimana però sono 2 euro a settimana sono 8-10 euro al mese e insomma detto così sembrano pochi sono 120 euro l'anno in più la stampa periodica soffre anche lei del problema del calo della pubblicità che è una non lo so c'è proprio una ghiattura una cosa che non si riesce a risollevare perché banalmente a proposito di essere ancorati a vecchi schemi si continua nella stampa periodica non parlo solo del mio giornale che anzi un po' ci prova perché ha un sito ha dei social eccetera ma ci sono periodici molto molto solidi che stanno in giro da 40 da 50 anni che non hanno un sito internet non hanno uno spin off digitale e quindi appunto uno schema vecchio che pretende di adattarsi a un sistema nuovo peraltro anche lo sperare che lo schema pubblicitario del quotidiano del giornale si spostasse su internet è stata una chimera che poi non si è realizzata e ha messo in stand by qualcuno ci è riuscito perché per esempio io non condivido molto però per esempio Vanity Fair che ha perso tantissime copie sembra che voglia parlare male degli altri non è così voglio paradossalmente parlarne bene perché ha perso tantissime copie in edicola del cartaceo però ha cercato di guadagnare con altri modelli di business ha inventato la copertina digitale per cui al di là del giornale che va in edicola c'è anche una storia di copertina importante cioè con personaggi che sarebbero da copertina in edicola che finiscono solo sul digitale ha un sito molto attivo ha dei social molto attivi anche dal punto anche e soprattutto direi dal punto di vista del marketing crea eventi con il brand Vanity Fair cioè ha cercato di come dire di supplire alla mancanza di copie con cose che non sono giornalistiche perché bisogna dire sono tutte cose che hanno a che fare con pubblicità e marketing ma che beneficiano della grande attendibilità che quel brand attendibilità giornalistica che ancora quel brand conserva poi vai a sapere fino a quando se non la alimenti ma insomma mette a frutto quella credibilità lì paradossalmente una delle cose che c'è in cose è che i brand i giornali come marchio resistono anche se poi in realtà sono l'ombra di loro stessi però alcuni scusa vorrei intanto dirvi diciamo che la lettura di queste cose spiegate bene non è così deprimente diciamo come stiamo disegnando no ma poi avremmo parlato anche di cose belle no ma poi in realtà diciamo appunto vale sempre grande la confusione sotto il cielo la situazione eccellente cioè tutto questo genera anche una vivacità di sperimentazioni anche storie no vi faccio l'esempio più macroscopico in Italia quello che sta succedendo in questo momento nel gruppo Gedi cosiddetto è a Repubblica in particolare è diciamo drammatico visto da dentro ma visto da fuori letterariamente affascinante no è una storia sì cioè no ma i drammi vanno sempre fortissimo però diciamo è un dramma con tutti dei twist ma Elkan secondo me nemmeno se ne accorge e quello è un pezzo della storia no cioè che un giornale che soltanto nei numeri non entro diciamo poi nei contenuti ma soltanto nei numeri diciamo ha un crollo di diffusione che è praticamente doppio di quello che stanno avendo tutti quanti normalmente in un tempo così rapido e che fa completamente scomparire almeno sulla carta mentre sul web esiste ancora la competizione con il suo maggiore rivale la competizione fra Corriere e Repubblica oggi in Italia non esiste più perché Corriere sta quasi vendendo il doppio delle copie tutti e due diciamo vendono un decimo delle copie di quelle che vendevano vent'anni fa e tutto questo è una storia ed è interessante e avviene probabilmente proprio perché diciamo per Elkan e per l'editore è l'ultimo dei problemi no però al di là di questo poi ci sono esperimenti ci sono novità che succedono ci sono cose che cambiano continuamente persino negli ambiti di giornali diciamo per cui io non ho straordinarie simpatie compreso il suo ma anche lì se uno diciamo guarda le storie quello che è successo per esempio nella competizione fra i tre giornali di destra giornale libero e verità peraltro nati tutti quanti uno dalla costa dell'altro e come sappiamo con un giro di direttori che è risuccesso da poco di nuovo però tutto questo è molto interessante il fatto che la verità abbia diciamo sia stata in grado di nuovo con modi e scelte e contenuti che condivido pochissimo per usare un eufemismo ma di arrivare a essere diciamo a superare i concorrenti e a essere il più venduto ed essendo l'ultimo della famiglia diciamo dei giornali adesso li sta di nuovo o riperdendo e anche questo è un pezzo di una storia è tutto molto vivace e interessante e per tornare a una cosa a cui stava alludendo Mariana intorno ai costi che a oggi per una qualità dei contenuti c'è tutto un pezzo interessante di cose di successo di moderato successo diciamo dentro delle scale limitate nell'editoria giornalistica italiana degli ultimi anni che sta dentro l'idea di fare cose a costi bassissimi con una grande lucidità e consapevolezza sapendo appunto che i costi alti è difficile sostenerli costi bassissimi di bassa qualità ma che riescono a raggiungere grandi numeri quindi diciamo ci sono molti concorrenti di oggi diciamo nell'ambito dei periodici che sono nati negli ultimi anni che sono fatti da due persone in alcuni casi ma che appunto riescono a fare dei numeri per essere sostenibili tutto questo appunto è continuamente molto vivace per zoologi come noi è anche molto interessante Fabio tu sei lavori in un giornale cartaceo che sta guadagnando che aumenta le sue copie sta guadagnando copie tu sei ricchissimo lo sappiamo ma è già una storia come diceva lui sì sì assolutamente tanto faccio anche un preambolo così mi unifico tra l'altro c'è un bellissimo uno dei capitoli del libro di cose spiegate bene che dice proprio che una delle caratteristiche del giornalismo italiano è quella dei preamboli non ci fare i belli attacchi tutti i belli rotondi tutti iscritti a me piace molto devo dire anche a me e quindi faccio anche io un brevissimo preambolo perché da appassionato di storia quando ringraziando intanto il circolo dei lettori di Novara altrimenti mi dimentico subito e Paola Turchelli che mi ha invitato quando Paola mi ha chiamato per invitarmi qui ho messo giù il telefono la prima cosa che mi è venuta in mente è che è molto bello parlare di giornalismo in una regione come il Piemonte che è stata un po' la culla del giornalismo moderno perché con lo statuto Albertino 4 marzo 1848 scusate di fatto nasce la prima legge 20 giorni dopo nasce la prima legge sulla libertà di stampa che a raccontarla adesso viene da ridere perché la libertà di stampa era se parli male del Papa ti chiudo il giornale e vai in galera se parli male del Re ti chiudo il giornale e vai molto in galera e quindi insomma adesso così fa ridere però come dire l'ho trovato un po' romantico se vogliamo il fatto di essere in Piemonte a parlare di giornalismo anche perché tra parentesi il Piemonte è stato anche l'unico poi stato che dopo la restaurazione dopo il 48-49 ha mantenuto con Vittorio Emanuele lo statuto Albertino e quindi anche la legge sulla libertà di stampa mentre in tutti gli altri stati italiani è stata spazzata via dalla restaurazione quindi così era funziona funziona? no notavo che a Libero sono così abituati diciamo avere un pubblico di lettori abbastanza anziani che lui addirittura è partito dallo statuto Albertino come tema di una discussione sul cambiamento del giornalismo ti assicuro considerando la media delle nostre lettere come dire il periodo diciamo qui di solito fanno riferimento non era esattamente sulla libertà di stampa quindi ho preferito il risorgimento no sì come diceva giustamente la nostra moderatrice io sono un po' come dire una quota differente rispetto al panorama perché noi con i dati di luglio che sono usciti qualche giorno fa e hanno visto una crescita del più 10% delle vendite siamo l'unico giornale italiano che sostanzialmente da un anno è in crescita continua però è una crescita lo ricordavo anche Luca prima che è molto limitata rispetto ai numeri cui eravamo abituati cioè per noi in questo momento essere cresciuti per 12 mesi significa vendere sostanzialmente in media tra le 25 e le 30 mila copie Libero 15 anni fa 16 anni fa vendeva 120 140 mila copie e questo vale per tutti dal corriere in giù quindi sicuramente c'è stata una contrazione del mercato se mi chiedete perché Libero vende io sinceramente non ve lo so dire altrimenti anziché fare il vice capo servizio probabilmente farei il direttore sarei qui lo stesso ma in un'altra veste non lo so io ho provato a chiedermelo io credo che forse in questo momento la stampa abbia bisogno di targettizzazione cioè noi abbiamo un target dei nostri lettori e cerchiamo di dare loro nella maniera più seria più professionale e anche più obiettiva possibile aprire loro una finestra su quel mondo che a loro interessa cioè Libero è un giornale che si occupa di centrodestra fin dalla lo ha scritto Vittorio Feltri nel numero uno del giornale quindi insomma non ci siamo mai nascosti dietro etichette dietro l'indipendenza eccetera noi siamo indipendenti nel senso che ricordo un bellissimo titolo quando la Moratti a Milano decise di fare l'area quella che adesso si chiama Area C e allora però quella Moratti si chiamava Congestion Charge perché era più figo e ricordo Feltri che titolò il titolo di prima pagina Moratti virgola ma sei scema punto interrogativo ecco quindi noi abbiamo abbiamo targetizzato i nostri lettori così cioè con dei titoli comunque forti con con delle posizioni forti a volte anche critiche nei confronti di quelli che sono in teoria dovrebbero essere i nostri partiti di riferimento perché abbiamo credo criticato Berlusconi Salvini Bossi Lameloni adesso magari un po' meno perché ancora come dire sull'onda però insomma arriverà anche il suo turno prima o poi non facciamo sconti a nessuno ecco di solito e quindi noi abbiamo provato a fare questo in un mondo come ricordavano prima i colleghi che è molto difficile perché noi ci troviamo tutti i giorni a dover come dire a confrontarci con delle sfide nuove cioè anche il nostro stesso mestiere di giornalisti cioè forse l'unica roba che è rimasto uguale è che cominciamo il mattino presto e finiamo la sera tardi e non ci sono ferie non ci sono giorni di riposo nel senso che se ti chiamano devi rispondere per il resto però ci troviamo davvero a confrontarci con un mondo che è completamente cambiato per esempio ormai sui social noi siamo 56 milioni di giornalisti perché ognuno ti dice quello che tu non hai capito cioè tu scrivi un articolo e ti scrivono sotto qualsiasi cosa ma sei scema ti scrivono sotto anche quando va bene sei scemo ma proprio quando sei fortunato però onestamente devo dire che come dico sempre è un lavoro che io personalmente non cambierei con nessun altro non so voi ma io anche nei momenti più difficili non lo cambierei e poi c'è lo diceva Luca prima noi siamo protagonisti di una storia nuova recente perché come sapete il nostro editore ha recentemente acquistato anche quello che fondamentalmente fino alla nascita della verità era il nostro principale concorrente cioè il giornale e quindi anche questo è una sfida per noi perché comunque siamo anche un po' destabilizzati perché non capisco io poi vado avanti lo steu uguale che quando quando Sallusti se n'è andato adesso forse al giornale non so è un po' confusi ma poi magari tra 15 giorni ritornano non lo so è un po' un casino no però ecco per esempio quando lui cambiate le serature no adesso tra l'altro tra un paio di mesi andiamo anche nello stesso palazzo quindi proprio cioè fate il riconoscimento facciale finisce io penso già che sbaglierò redazione qualche entrerò in qualche redazione sbagliata no ecco però dicevo però anche questo per esempio è una sfida questa concentrazione della stampa di centrodestra è una sfida perché poi diventa anche difficile come dire gestirla cioè differenziare i due giornali cioè capire uno che temi deve trattare che linea deve trattare rispetto ad altri quindi è una cosa sempre molto interessante però io credo alla fine che secondo me il giornale cartaceo non morirà mai io sono un ottimista secondo me magari sarà sempre più di nicchia magari perché comunque il mercato si contrae però secondo me come dire anche la reputazione che dà il giornale di carta resterà si ricordava prima i siti internet sempre nel libro ma insomma lo vediamo tutti noi tranne qualche rarissima eccezione tutti i siti internet di informazione hanno alle spalle e un giornale cartaceo c'è corriere.it repubblica.it lo dico faccio liberoquotidiano.it perché poi a me capita che mi chiamano e dico ho letto su libero che hai parlato male di me mi risulta aspetta che vado a vedere allora lo sa mai qualche redattore impazzito allora vado a vedere sul nostro sito non trovo niente ma sei sicuro dici sì sì guarda ti manda il link ed è libero.it il motore di ricerca quindi è liberoquotidiano.it così se dovete lamentarvi almeno lo fate a ragion veduta e no dicevo e quindi io credo molto in questo lavoro credo molto però anche nelle sfide che questo lavoro ci pone perché è vero che come dire c'è la carta io credo come ho detto prima che la carta resterà per sempre sostanzialmente ma anche solo come forma cioè io stesso che sono un appassionato di giornali di carte quindi per esempio quando sono in vacanza mi piace comprarmi 3-4 giornali e leggermi con la carta però mi rendo conto che per esempio durante l'anno è molto più comodo quando fai colazione al mattino e devi fare la rassegna stampa per iniziare la tua giornata di lavoro se hai lo sfogliatore di tutti i quotidiani sull'iPad è molto più comodo sfogliarli sull'iPad che non uscire andare in edicola comprare i giornali eccetera quindi capisco che c'è anche questo però il fatto che comunque ci sia una pagina da guardare non so secondo me è molto per me è molto rassicurante anche anche sulla sulla carta e dicevo però ci sono tante sfide che sono i podcast che sono le nuove forme di comunicazione cioè io sono impazzito per i podcast per esempio cioè faccio il mio viaggio faccio 500 km al giorno tra l'anno e ritorno per andare a lavorare e nove volte su dieci ascolto i podcast spesso peraltro del post per esempio indagini mi fa impazzia io quando arriva il primo del mese sono lì a leggere a guardare a guardare questa cosa e torno e certo per finirlo ecco poi infatti sul tema della parola giornalista apriremo poi un capitolo e per dare un così un po' di ottimismo un raccontare una storia bella quella in titoli Alemond perché quella è veramente una storia che ci rinfranca un po' nonostante i momenti difficili anche perché è un giornale non in lingua inglese che quindi ha potenzialmente un pubblico più limitato di quello che può essere New York Times come scrivete un altro campionato però è anche si rivolge anche a un potenziale pubblico diverso sì c'è una storia generale dentro cui inquadrare tutto questo avendo presente che è tutto continuamente in cambiamento anche del New York Times raccontiamo il punto centrale della storia del New York Times è che è stato un giornale in straordinaria crisi e difficoltà e travolto dal cambiamento soltanto pochi anni fa e in questo momento ha riguadagnato invece diciamo tutto quanto il suo primato non solo di qualità dei contenuti ma anche di capacità di sostenibilità di contemporaneità sperimentazione eccetera quindi sapendo che tutto è straordinariamente in cambiamento questo è un momento in cui la tendenza generale è il riaffermarsi delle spalle larghe delle grosse imprese giornalistiche tradizionali che sono state molto minacciate da dei progetti nuovi sotto diciamo molti profili e molti posti del mondo questi progetti nuovi soprattutto da quando i ricavi pubblicitari da internet si sono rivelati invece che compromettenti come si sperava ma declinanti appunto sono molto in crisi e dentro tutto questo appunto non c'è solo il caso New York Times ma c'è il caso di Le Monde che è ulteriormente affascinante perché appunto come dicevi tu è un giornale che ha un bacino di utenza molto più limitato e la cosa che forse si può dire è anche del New York Times cioè che un giornale nel suo paese sia contemporaneamente il giornale più venduto e il giornale di riconosciuta maggior qualità per il New York Times vale ma è un giornale che non è più nemmeno americano è un giornale internazionale mondiale la cosa affascinante diciamo e ammirevole di Le Monde e della Francia e dei francesi che poi è un paese strano diciamo molto parigino come sappiamo eccetera eccetera è che è un paese caso abbastanza raro fra i grandi paesi del mondo in cui il quotidiano più venduto è anche obiettivamente il miglior quotidiano che c'è in quel paese è anche un quotidiano poi naturalmente diciamo può avere i suoi abbassamenti di qualità eccetera ma che eredita e mantiene ancora una qualità che non è soltanto dell'esecuzione ma anche della scelta dell'informazione con una straordinaria attenzione agli esteri esatto una fogliazione originale rispetto a con tutte delle cose che sarebbero veramente controintuitive dal punto di vista commerciale da noi che invece Le Monde continua a mantenere e che è complice anche un ottimo lavoro che hanno fatto durante la pandemia la pandemia è stata la pandemia ha aiutato tantissimo per via di quelle che erano le nostre condizioni in quel periodo tantissimi giornali in modi diversi alcuni l'hanno saputo capitalizzare meglio alcuni diciamo quel vantaggio poi l'hanno perso alcuni l'hanno saputo capitalizzare soprattutto quelli che in quel momento drammatico e difficile hanno costruito una credibilità appunto nei confronti di un pubblico che magari altrimenti non sarebbe stato particolarmente interessato a tutto questo volevo aggiungere una cosa a quello che dicevamo a proposito dell'indipendenza c'è anche qui un equivoco ingenuo da parte di molti lettori soprattutto io vedo molto inevitabilmente le critiche e le proteste che affiorano sui social net o su twitter in particolare nei confronti dei giornali e fra le critiche più sbrigative che vengono spesso mosse appunto ingenue da parte dell'editorio nei confronti di questo quel giornale è di essere perdonatemi se uso la stessa stupida e sbrigativa espressione di essere servi di questo di quel potere politico di quel partito ma questo non solo non avviene diciamo per scelta di eventuale indipendenza come dicevamo ma non avviene perché il principale interesse dei giornali è la sopravvivenza dei giornali stessi e la principale dipendenza dai giornali in questi anni più che mai è dai propri lettori e dalla capacità di mantenere lettori che è un problema noi abbiamo detto io ripeto spesso che contesto molto quel luogo comune quella frase fatta attribuita via via diversi poi Montanelli la disse esattamente di rivendicazione che il nostro unico padrone sono i lettori i lettori sono pessimi come padrone sono rischiosissimi quasi quanto edito anzi forse di più di certi editori non tanto invadenti e oggi diciamo una difficoltà e un limite e un problema dei giornali non voglio sollevare la questione ma appunto una critica che io eventualmente farei ad alcuni quotidiani non è la dipendenza da presunti partiti o da essere capaci di criticare la Moratti perché tu sei capace di criticare la Moratti perché sai che i tuoi lettori saranno contenti di quella critica della Moratti quindi oggi il limite di moltissimi giornali poi siamo un po' rimasti diciamo perché approfittiamo appunto degli ospiti sulle cose dei quotidiani ma dentro questo numero di cose spiegate bene parliamo anche di molti altri formati progetti e cose molto meno tradizionali però il limite oggi ma è un limite dettato come vi dicevo dalla difficoltà delle risorse economiche dei giornali è di non avere non potersi permettere di dire delle cose contraddittorie rispetto a quello che i lettori si ospitano si aspettano scusate e questo dipende ancora di nuovo cioè la mancanza di indipendenza dei giornali è una mancanza di indipendenza economica ecco non è una mancanza di indipendenza politica ecco lancio l'ultimo argomento poi apriamo alle domande quindi cominciate a pensare cosa volete chiedere ai nostri ospiti una riflessione oggi va fatta anche sul termine giornalista nel senso che quando ho dato l'esame che non è tantissimo tempo fa ma un po' eravamo stampa cartacea televisioni e radio oggi ci sono tantissimi i soggetti diversi che fanno informazione la fanno benissimo ma spesso non arriva il riconoscimento non sono considerati giornalisti c'è una questione da chiarire anche in questi termini sul termine che si usa e poi via via a cascata sul riconoscimento da parte dell'ordine sull'esistenza anche dell'ordine forse sono una persona sbagliata a cui chiederlo nel tuo romanzo c'è una giornalista precaria che rappresenta benissimo la categoria anche per quello io sono penso per me l'ordine dei giornalisti dovrebbe liquefarsi non dovrebbe esistere non ha senso di esistere anzi forse sì spero che ci sia qualcuno dell'ordine regionale o nazionale no ma perché non ha senso è appunto un qualcosa che che ha fatto diciamo che tende a conservare schemi che non hanno più senso ma mi basti come dire l'organizzazione della formazione continua no cioè posto che quell'obbligo lì non l'ha deciso l'ordine dei giornalisti ma l'organizzazione di quella formazione è uno uno schema perfetto che rende come dire l'essenza l'inutilità dell'ordine dei giornalisti le poche volte perché non li faccio i corsi aspetto che mi arrestino mi radino non lo so ma anche perché cioè io veramente voglio vedere che succede finora niente quindi altra cosa che ci dice molto su questa faccenda però le poche volte che ho partecipato a dei corsi sono stati corsi sul web tenuti da colleghi in pensione che forse avevano un indirizzo email forse perché perché è inutile che ce lo raccontiamo insomma l'organizzazione di quei corsi supplisce insomma soddisfa altre regole e non la formazione del giornalista questo per fare un esempio tornando alla domanda io sono molto laica su chi è un giornalista per me il cittadino informato che su Twitter dice guardate che non è come la sta dicendo Marianne Aprile in onda perché io questa cosa la faccio di lavoro non è così e te lo motiva per me quello sta facendo un lavoro giornalistico un giornalista esperto tra l'altro a proposito diciamo delle fioriture della professione il giornalista esperto è un'altra figura mitologica che nelle redazioni non si capisce bene cosa faccia ma esiste e secondo me non dovrebbe esserci un tesserino non dovrebbe esserci forse un esame ma più per come dire per fornire con lo scopo di fornire rudimenti tecnici pratici proprio diciamo operativi per per sapere come funziona una redazione non sapere come funziona un pezzo un attacco che io sono contraria anche alle scuole di giornalismo tanto per dirne una perché adesso facciamoci degli amici perché però facciamoci quello che era bene io concordo su tutto no ma perché io ho avuto forse posso permettermi di dire una cosa del genere perché ho avuto la fortuna di avercela naturalmente una scuola di giornalismo incappando in una in Alcatraz travestito da un'agenzia di stampa però era Alcatraz secondo me c'erano pure di poi delle secondini sì sì c'erano i secondini era un gatto nero che si chiamava Olimpia il secondino c'era il gatto di redazione però al di là delle battute cioè il valore immenso che riconosco al farlo il giornalista mi mi porta a dire che non c'è nessuno che te lo possa insegnare in una scuola come farlo te lo deve insegnare in una redazione e qui torniamo a quello che dicevamo all'inizio nelle redazioni dei giornali così come nel resto del paese ci fosse una maggiore propensione a trasmetterle le cose a insegnarle ai ragazzi invece di sfruttarli a tre euro a pezzo e farsi fare anche il montaggio per i social sempre con quei tre euro sull'intervista fatta a margine del festival non ci sarebbe bisogno della scuola di giornalismo e tutti sapremmo riconoscere un giornalista senza chiederci cosa è un giornalista perché lo vedremo al lavoro e non avrebbe bisogno di un tesserino per qualificarsi Mariana mi ha scavalcato piuttosto a sinistra diciamo o a destra io puntavo su lei facciamo così tu a sinistra io a destra sia tutti d'accordo con quello che ha detto eventualmente no allora intanto bisogna aver presente lo so sono il primo a cadere in questa cosa che è umana ma non bisognerebbe mai discutere delle parole e dei singoli termini cioè che cosa è giornalista che cosa intende ma allora sei un giornalista eccetera perché il giornalismo e i giornalisti sono un miliardo di cose diverse e quindi finiamo appunto poi per litigare avendo ognuno diciamo in testa cose diverse oppure non avendo in testa le cose diverse io sono assolutamente da sempre critico nei confronti del senso dell'ordine giornalista esattamente come Mariana dopodiché mi fermo ogni tanto e penso mi guardo in giro e riconosco che ci sono delle condizioni professionali molto meno diciamo protette e privilegiate delle nostre su cui avere una sponda dal punto di vista avercela l'ordine non garantisce se la facesse io non sarei a favore dell'ostruggimento quella sponda non c'è soprattutto da un punto di vista economico non mi fate diventare difensore dell'ordine dei giornalisti diciamo però appunto è anche una struttura straordinariamente povera di risorse malgrado i 100 euro che tutti noi le diamo ogni anno ma insomma che rientrano in ingressi gratuiti ai musei che è praticamente l'unico senso del tesserino da giornalista diciamo oggi per molte persone la cosa che io su cui sono molto d'accordo con Marianna è appunto che è abbastanza insignificante la categoria professionale che il giornalismo diciamo così come lo intendiamo a come senso è fatto ormai da tantissime persone che anche dal punto di vista delle conseguenze del proprio lavoro e questo dovrebbe responsabilizzare tutti quanti peraltro nel nostro oggi capacità e possibilità di trasmettere informazioni e diffondere informazioni ci sono persone che ne hanno una quantità e quota di follower sui social network ma non sto parlando di Chiara Ferragni sto parlando ma forse diciamo persino di mia figlia che è capace di costruire un network di amici e giovani eccetera eccetera che supera i lettori che hanno molti giornalisti professionisti col tesserino in tasca nel loro giornale locale quindi nel momento in cui un giornalista professionista col tesserino in tasca di un giornale locale pugliese scrive un articolo che sarà letto da 411 persone e mia figlia scrive una cosa su Instagram che può essere letta da 1101 persone perché mia figlia deve essere meno responsabile del giornalista pugliese perché deve fare meno attenzione a quello che scrive questa è una cosa che io sento dire spesso quando persone diciamo rifanno circolare non dico su Whatsapp ma sui social network delle cose false delle cose pericolose eccetera e quando gliene è fatta un'obiezione la risposta è ma io non sono mica un giornalista ma il punto non è che cosa sei il punto sono le conseguenze i risultati delle scelte che fai qualunque sia la tua professione quindi anche in questo si è completamente sfarinato diciamo il senso della definizione esatta di giornalista noi citiamo anche qui alla fine una cosa che ha detto un americano molto bravo che studia le cose del giornalismo il cambiamento dell'informazione da molti anni che si chiama Jeff Jarvis che dice giornalismo perché poi appunto forse la cosa a definire non è tanto cos'è il giornalismo ma cos'è il giornalismo è qualsiasi lavoro di informazione che migliori il funzionamento di una comunità e di una convivenza a quel punto diciamo chiunque lo faccia professionalmente non professionalmente perché pagato perché non pagato appunto diventa abbastanza rilevante posso solo aggiungere che se tutti come dire raccogliessimo l'invito di Luca Sofi a renderci responsabili di quello che scriviamo indipendentemente dal tesserino che abbiamo migliorerebbe anche il giornalismo ufficiale quello propriamente detto perché il pezzo di Murgia su questo numero di cose che è una riflessione sul linguaggio dei giornali approfondisce il come si parlava si scriveva sui giornali di femminicidio e quel modo lì non è ancora sparito ma è molto migliorato il tipo di foto che si inseriscono nei pezzi che parlano di femminicidio è cambiato prima vedevi la coppia felice vittima e carnefice perché magari era presa da Instagram dall'ultima vacanza e c'era sempre un riferimento al raptus a un amore malato eccetera è partita una riflessione su questo grazie a figure come la Murgia ma grazie anche a quelli che sui social si indignavano e dicevano e taggavano Repubblica Corriere e gli altri giornali che questo errore questo errore magari persino in buona fede un tic culturale chiamatelo come volete ma era una cosa che propagava una certa idea di quel fenomeno dal basso molto dal basso è arrivata una indignazione per questa cosa adesso non dico che si sia risolto il problema perché qua a questo paese non si risolve mai niente ma c'è una maggiore sensibilità nei confronti di come te la fai una domanda in più prima di scrivere il titolo sul pezzo sul femminicidio quindi ritorno ai 1101 di tua figlia i follower di tua figlia cioè se davvero tutti raccogliessimo giornalisti e non l'invito di Sofi a essere a ritenerci responsabili delle parole che mettiamo in circolo perché siano aderenti alla realtà e non siano inutilmente diciamo sgangherate rispetto anche ai sentimenti e alle sensibilità altui miglioreremo noi la nostra bolla ma anche i giornali a tendere perché appunto i giornali devono intercettarli i lettori se cambiano i lettori cambiano anche i giornali